Credo che su questo progetto il senatore abbia poco da recriminare perché quando ce lo ha consegnato, intanto un progetto non con una cabina di rigida unica ma spacchettato in sette lotti, è chiaro da capire perché in sette lotti, ma soprattutto ha ricevuto tre grandi bocciature dagli enti, a cominciare dall'ente parco e siccome lì parliamo di un'area sottoposta a vincoli principalmente dall'ente parco, ma ce ne sono anche tanti altri, credo che farebbe bene a tacere. Noi abbiamo preso in mano questa situazione con l'ente parco e con tutti gli enti, ci siamo confrontati, abbiamo ripresentato una progettazione unitaria complessiva che prevede cose diverse. Lui aveva previsto l'innevamento in quota alta, sapendo che oggi con il riscaldamento bisogna prevederlo in quota bassa, quindi noi l'abbiamo previsto giù proprio a Passo Lanciano sul famoso pistone, i due bacini idrici per la raccolta dell'acqua che lui aveva previsto in quota sono stati bocciati dall'ente parco, noi abbiamo previsto invece un bacino idrico proprio a Passo Lanciano che serve per tre motivazioni, per l'innevamento, per essere utilizzato l'estate per le famiglie, per motivi ludici e soprattutto ci serve per il soccorso quando scoppieranno gli incendi. I parcheggi, prendo atto che ha modificato la posizione, ha riconosciuto che il suo progetto era sbagliato, tant'è che è stato bocciato dall'ente parco perché lui prevedeva i parcheggi solo a Mamma Rosa e invece noi abbiamo previsto tre snodi principali, tre vie d'accesso a Passo Lanciano dove ci sono i punti di snodi che sono quello di Pretoro, quindi allo Scoiattoro ci sarà un primo step già finanziato, ci saranno le navette che porteranno su, le navette che saranno utilizzate a titolo gratuito con il famoso ski pass unico che stiamo prevedendo perché nel nostro progetto abbiamo previsto anche il gestore unico, cioè cose che lui non sa neanche di che cosa stiamo parlando.